Archiviata la bella vittoria di domenica scorsa contro il Casteldaccia, in casa Nissa è iniziata la settimana con la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica 15 gennaio in trasferta a Marineo contro l'ostico oratorio San Ciro e San Giorgio. Ancora sotto gli occhi di tutti la buona prova del Tomaselli con un primo tempo davvero incredibile per gli uomini di Alessio Sferrazza che non hanno lasciato scambo al malcapitato Casteldaccia. La gara è stata impreziosita con la presenza dell'imprenditore piemontese Luca Giovannone che ha dichiarato di avere un progetto importante per la squadra e si punta al salto di categoria nella stagione 2023-2024. Ma adesso bisogna pensare al presente e il presente è appunto la trasferta di Marineo di domenica prossima. La squadra palermitana viene dal pareggio di Mazzara ed è in striscia positiva da tre partite e vuole continuare su questo trend. Anche i biancoscudati vogliono continuare a vincere e sognare la zona playoff, vero obiettivo stagionale e quindi la trasferta di domenica può rappresentare un passo importante per poi puntare al big match del 22 gennaio al Tomaselli contro la capolista Agragas. Per quanto riguarda il mercato, in settimana si aspettano gli annunci di Modula e altri due tasselli importanti per completare l'organico.